ciao a tutti nuovo video per la serie affitti brevi in 30 giorni quest'oggi video diverso dal solito perché non porto io un tema abbiamo già affrontati tanti e prossimamente ne affronteremo tanti altri ancora ma risponderò alle vostre domande che avete lasciato sino ad oggi nei commenti dei video precedenti della serie affitti brevi in 30 giorni per chi non lo sapesse è un percorso gratuito che sto portando avanti su youtube per far avvicinare quante più persone possibili al mondo degli affitti brevi ma se avete già visto tutti i video o volete comunque fare uno step successivo qua in descrizione vi anticipo che c'è un grandissimo regalo anzi due un ebook completamente gratuito che ti spiega come entrare nel mondo degli affitti brevi ad investimento zero e una consulenza completamente gratuita con il nostro team che ti può aiutare a capire se questo business fa il caso tuo o meno iscriviti comunque al canale metti un bel mi piace per supportarci e andiamo a leggere i vostri commenti ai quali risponderò uno ad uno quindi d'ora in poi potete fare altri commenti ai quali risponderò in un successivo video ma adesso andiamo a vedere quelli che sono arrivati negli ultimi circa dieci giorni primo commento è un complimento e mi fa estremamente piacere infatti flacco bel 969 dice il migliore nel settore chi si perderà pure questa occasione sarà un vero pollo grande ludovico beh grazie a te per il supporto abbiamo formato oltre 4.000 studenti vimbi academy l'accademia di formazione più grande d'europa quindi sicuramente sì chi si perde anche un'occasione irripetibile come questa è sicuramente un pollo o come dico io un fagiano andando avanti abbiamo fabio rosica che spero non stia rosicando scherzi a parte fabio mi ha fatto una domanda alla quale ho già risposto ma ne approfitto per argomentarla ancora maggiormente ludovico con tutta la tua esperienza ti è mai capitato sia personalmente che con uno dei tuoi account o uno dei tuoi studenti di essere bloccato preventivamente da airbnb per diversi giorni perché airbnb stessa ritiene che ci siano aspetti all'interno delle varie strutture che potrebbero recare dagni agli ospiti tipo una presunta fuga di gas ed una volta risolto il tutto e ripristinato l'account quanto verrà penalizzato devo essere onesto sì mi è successo e questo può succedere principalmente quando gli ospiti che soggiornano all'interno della struttura chiamano airbnb e gli dicono guarda che non lo so qua sta cadendo il soffitto a pezzi piuttosto che c'è una fuga di gas e giustamente airbnb per tutelare i potenziali futuri ospiti blocca la struttura fino a che tu non sei in grado di produrre la documentazione che attesta che questo non è un pericolo reale o che qualora ci fosse stato un pericolo reale tu lo hai prontamente risolto quindi se ad esempio viene segnalato che tu hai una fuga di gas ti basta far venire un tecnico che attesti che non c'è nessuna fuga di gas se ti accusano del fatto che il tetto sta crollando ti basta produrre un video dove si vede che il tetto non sta crollando ora alcuni di voi potrebbero spaventarsi dire caspita ludovico ma succedono anche queste cose beh devo essere onesto mi è successo una volta faccio questo lavoro ormai da sei anni centinaia di proprietà quindi la probabilità che accada un qualcosa del genere è veramente minima però dall'altra parte è bene che airbnb tuteli eventuali ospiti se ciò è veritiero cioè se veramente c'è una fuga di gas è bene che effettivamente non ci vada nessuno nella casa quindi è una cosa che io apprezzo molto da parte dei portali come appunto airbnb e booking che cercano di tutelare l'ospite e garantiscono anche a noi host diciamo di avere una nomea una fama migliore dopodiché nick andronache mi chiede se è possibile fare un milione di euro netti nell'arco di un anno assolutamente sì è possibile tutto è possibile anche 10 milioni di euro netti l'importante è iniziare da qualche parte infatti tante persone mi fanno domande posso arrivare a guadagnare 10.000 euro al mese sì ma non deve essere il tuo primo obiettivo il tuo primo obiettivo deve essere innanzitutto studio come funziona questo business acquisisco la prima proprietà poi la seconda poi la terza poi la quarta e in men che non si dica magari senza neanche accorgertene sei arrivato ai famosi 10.000 euro al mese ma se tu pensi di passare da 0 a 10.000 in due giorni è ovvio che non ce la farai quindi è importante secondo me darsi dei micro obiettivi più bassi quindi voglio fare i primi 1.000 euro al mese poi 2.000 poi 3.000 4.000 5.000 e nel giro di qualche mese un anno potreste arrivare a guadagnare anche 10.000 euro al mese dopodiché sì certo è possibile fare un milione di euro netti all'anno però ci vuole del tempo per costruirsi un portfolio come ad esempio il mio che a distanza di tempo poi potrà generare queste cifre e vi ricordo che secondo me questo è l'unico business dove veramente si può ambire a determinate cifre perché l'e-commerce è molto complicato devi avere stock per iniziare devi avere la partita iva hai la concorrenza di negozi online enormi come amazon e perché qualcuno dovrebbe acquistare quel prodotto dal tuo sito quando può averlo con amazon il giorno dopo con la consegna di un giorno ecco perché indipendentemente dal fatto che voi vogliate guadagnare 3.000 5.000 10.000 o un milione di euro l'affitto breve è l'unica strada per riuscirci e io e i miei migliaia di studenti ne siamo la prova definitiva ma proseguiamo con i commenti che devo essere onesto non sono tantissimi però ci sono significa che evidentemente sono molto chiaro nell'esposizione se non c'è bisogno di fare troppe domande mauro dice top in un mio video mi fa piacere è sempre mauro dopo averci detto top chiede quanto costa il corso base di b&b academy allora non esiste una vera e propria risposta perché ormai i nostri percorsi sono praticamente personalizzati hai bisogno di consulenze non hai bisogno di consulenze preferisci avere un extra non un extra quindi il mio consiglio è quello di contattare il nostro team attraverso la famosa consulenza gratuita che trovate qua in descrizione spiegargli le vostre esigenze le metodologie di pagamento se dovete o volete dilazionare l'acquisto e sulla base di questo vi verrà creato un pacchetto ad hoc in linea con quello che è il vostro budget e le vostre aspettative procediamo con real world 23 10 che chiede ciao ludovico ho acquistato b&b academy pochi giorni fa una domanda ma i tuoi annunci su rb si possono visualizzare hai un link sarei curioso beh tralasciando che all'interno di b&b academy analizzo tutti i miei annunci quindi sì all'interno di b&b academy troverai questo link e diciamo su youtube preferisco non esporlo perché non pubblicizzo troppo i miei annunci per il semplice fatto che comunque ci sono delle location dove opero che sono delle vere e proprie chicche e voglio che questi luoghi altamente profittevoli siano come dire conosciuti solo ed esclusivamente dalla mia community ma oltre a questo mi è capitato in passato purtroppo che qualcuno per farmi un dispetto prenotasse le mie strutture ricettive al solo fine di farmi un danno quindi magari mi prenotava e poco prima di arrivare cancellava solo per farmi un dispetto piuttosto che qualcuno prenotava neanche soggiornava e poi mi lasciava una stella per ripicca perché facevano ciò perché comunque sono un personaggio pubblico sono un personaggio molto famoso ha tante persone purtroppo sto antipatico semplicemente perché guadagno molto denaro è brutto dirlo e quindi per tutelarmi cerco di pubblicizzare il meno possibile i miei annunci e soprattutto ho creato diversi account così se anche uno magari riescono a trovarlo poi gli altri quattro non possono trovarlo e quindi non possono arrecarmi nessun tipo di danno quindi mi spiace su youtube il mio link non lo faccio vedere ma dentro la community bmb academy si marco dice wow e riqualifico affitto dice ottime riflessioni il che mi fa piacere perché significa ancora una volta che i miei video sono chiari ma proseguiamo taormina central apartment dice la cosa più importante di cui tener conto che con la partita iva pago il 5 per cento anno sul fatturato senza partita iva ci pago il 21 per cento e su 30.000 euro di fatturato di cui solitamente la metà dei costi sono traffitto eccetera eccetera il 21 per cento sono quasi la metà dei miei guadagni chiama riflessi al governo meglio la partita iva soprattutto se si ha già una busta paga si può anche chiedere l'esenzione dei contributi in assolutamente sì quello che dice taormina central apartment è giusto in determinate casistiche la partita iva è più conveniente ma quando noi diciamo questo business lo puoi fare senza partita iva è vero cioè non stiamo dicendo farlo senza partita iva è più conveniente ma stiamo dicendo se hai paura se non te la senti di aprire la partita iva sappi che questo business lo puoi fare anche senza aprirla poi sulla convenienza o meno della partita iva non voglio come dire addentrarmi perché ci sono mille casistiche però sì vi confermo che appunto quello che dice taormina central apartment è corretto delle volte con una partita iva forfettaria si può guadagnare molto di più a parità di importo incassato perché la tassazione è minore quindi giustissimo quello che dice taormina central apartment è inutile dirvi che all'interno di bmb academy questi temi vengono affrontati in ore 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 di lezioni fatti dallo studio allievi nostro partner dal punto di vista fiscale quindi non preoccupatevi che se decidete di entrare nella nostra community bmb academy con oltre 4000 persone queste tematiche verranno analizzate da cima a fondo e capirete in men che non si dica qual è la miglior soluzione per la vostra situazione andando avanti tori 4548 dice ciao ludovico ma di solito se uno opera con il regime forfettario della partita iva anche se ha meno di quattro immobili potrebbe essere più conveniente eccetera 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 corretto quindi ancora una volta in realtà la tematica è la medesima ho già risposto sì delle volte può essere più conveniente ciao ludovico sono un tuo studente da un mesetto se all'inizio rimango senza partita iva airbnb mi trattiene dal mio compenso in automatico il 21 26 per cento dal secondo immobile in poi come sostituto d'imposta l'ho letta male però il senso voleva essere se opero senza partita iva airbnb mi trattiene in automatico il compenso della cedolare secca sì corretto te lo trattiene in automatico ma puoi richiedere comunque l'esenzione se per qualsiasi motivo tu non pensi che sia corretto o non vuoi che airbnb ti trattenga la cedolare secca in automatico puoi richiedere l'esenzione e poi te la smazzi tu quindi dichiarerai tu in dichiarazione di erediti o attuerai insomma il regime fiscale che reputi più consono quindi sì te lo trattiene in automatico ma puoi inibire questa funzionalità ti basta contattare l'assistenza riqualifico affitto ancora una volta mi dà una piccola soddisfazione dicendomi sono d'accordo rispondendo al mio video sugli affitti brevi senza partita iva e alessio albanese 6371 mi dice ciao ludovico sarebbe interessante oltre alla sublocazione il property management evidenziare quanto potrebbe rendere ad esempio un ipotetico immobile di proprietà con spese annesse quindi tari imu bollette condominio eccetera 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 che non sono presenti in sub in property management per capire quale guadagno netto ci sia nonostante resti il 100 per cento dell'incasso concordo con te alessio valuteremo se includere questo tema nella serie affitti brevi in 30 giorni dobbiamo fare un po di simulazioni per portare un caso studio reale posso dirti senza entrare nel merito di quanto pago di imu eccetera eccetera perché onestamente non me ne occupo io se ne occupa la mia segretaria però che trovo convenienza nell'acquistare degli immobili io personalmente la marginalità inutile dirti che è molto più alta rispetto ad una sublocazione un property management proprio perché il 100 per cento dell'incasso rimane a noi ed è conveniente proprio perché appunto è tutto internalizzato poi è ovvio che se succede qualcosa non vado io a sistemare quell'immobile o non vado io a fare i check in e quindi non sono io il referente il loco di quell'immobile perché vivo all'estero però ti confermo che se gestisci tu tutto come property manager e hai una persona di fiducia che all'occorrenza va a fare il check dell'immobile e quant'altro rimane molto conveniente soprattutto se fai un mutuo dando un piccolo anticipo e la rata mensile te la ripaghi ampiamente da il reddito che viene generato dal tuo appartamento e anzi ti avanzano anche soldi con quei soldi che ti avanzano puoi decidere di saldare il mutuo con largo anticipo o semplicemente di tenerteli in tasca quindi ti inizio a rispondere che è decisamente più conveniente poi eventualmente faremo un video più approfondito andando avanti andrea nfx vabbè ciao ludovico se il proprietario dovesse chiederti cosa succede se rimane sfitto l'immobile cioè cosa succede se non si riesce ad affittare per esempio per un mese lui può incolparti del mancato guadagno anche se noi diciamo chiaramente che non ha nessun vincolo con noi e può affittarlo quando vuole una conseguenza reale c'è un po di confusione comunque no proprietario non può dire nulla dal momento in cui firma in property management accetta il rischio di impresa ovviamente può sempre lamentarsi con te può esprimere il suo disappunto ma non può denunciarti per un mancato incasso perché soprattutto se tu hai agito in buona fede senza sabotarlo senza fare dispetti e adempiendo a tutti gli obblighi diciamo di legge quindi senza fare stupidaggini seguendo il metodo bmb academy dalla alla z nessuno può accusarti ripeto poi se è insoddisfatto può mandare una disdetta ma non puoi doverci mettere tu di tasca tua i soldi che eventualmente avrebbe dovuto incassare e poi devo essere onesto non mi è mai successo in quattro anni di bmb academy che uno studente mi dicesse ludovico non sono riuscito ad affittare e il proprietario è insoddisfatto può essere che ci sia un qualche tipo di diciamo disappunto con il proprietario magari in virtù di altre questioni ma non ho mai sentito di un immobile che nei periodi in cui sarebbe dovuto essere affittato è stato vuoto poi è ovvio che se questa persona pretende di fare un sacco di soldi a dicembre con un immobile non lo so in sardegna dove si lavora d'estate lì è stupidaggine però se parliamo di un immobile in sardegna impossibile che tu d'estate non lo vada a riempire se parliamo di un immobile in una grande città impossibile che tu non riceva prenotazioni 12 mesi l'anno soprattutto se segui il metodo bmb academy e a tal proposito vi ricordo che qua in descrizione trovate dei regali dei bonus completamente gratuiti quindi non può incolparti e se ti chiede cosa succede se rimane sfitto li rispondi io sono un professionista faccio delle ricerche di mercato e vado incontro alla domanda quindi se c'è della domanda in quella determinata zona in quel determinato periodo stia pure tranquillo che noi andremo ad intercettare e otterremo prenotazioni ed infine siamo giunti all'ultimo commento di dadep 81 che mi dice sempre sul pezzo quindi un ennesimo complimento spero che anche questo video sia stato utile e mi raccomando approfittatene per commentare quanti più video possibili con tutte le vostre domande per ottenere una risposta quando rifarò il prossimo video in questo stile quindi con un bel q a alle vostre domande per questo video è tutto iscrivetevi al canale mettete un bel pollicione e da ludovico cianchetta vasquez fondatore di bm academy è tutto